Siamo il peschichiatra, abbiamo deciso di registrare un nuovo cd, il nuovo cd del peschichiatra lo faremo in un modo molto speciale, cioè faremo un verkami, cos'è un verkami? Un verkami è una campagna di micromecenatismo, cioè prima di produrre il disco che diamo la vostra collaborazione per che sia possibile aggiungere l'obiettivo e registrarlo, masterizzarlo e fabricarlo, in base alle apportazioni che liate, abrere diversi ricompensi, se aggiungete qualcosa potrete scaricarlo e avere il cd fisico, potete avere anche entrata per concerto, Un sacco di ricompense che potrei avere se li appoggi il nostro cd. Vogliamo iniziare il verkami perché vogliamo entrare in studio per registrare i primi cd del peschiatra. Fare la masterizzazione e poi la produzione e la fabbricazione perché possiate avere tutti una copia a casa vostra, che sia da Donosti, Venezuela, Grazia e Italia. E poi regalarvelo, darvelo, registriamo il disco con i vostri soldi e... Grazie. 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 Grazie.